La maldicenza aquilana al tempo del covid non molla anzi rilancia il culto delle male lingue che da tempo in memoria si celebra solo all'aquila il 21 gennaio di ogni anno nei giorni della candidatura a capitale italiana della cultura 2022 il sedicesimo festival il pianeta maldicenza che ha già portato in città cattedratici della parola pungente come francesco cossiga giulio andreotti e fabio capello trasloca in televisione come spiega il presidente dell'associazione dei devoti di sant'agnese angelo de nicola amplificheremo in televisione con tre giornate l'aspetto culturale di questa nostra manifestazione quindi che cos'è la sant'agnese il dialetto e anche magari un approfondimento sul concorso fotografico che poi darà la possibilità di vincere l'agnesino in queste tre serate avremo degli ospiti di assoluto prestigio quanto all'aspetto popolare tutto bloccato per le decine di congreghe che di solito a cena tra centinaia di amici o colleghi eleggono i più linguacciuti della compagnia ai ristoranti chiusi per divieto di assembramento si è risposto con le più disparate soluzioni proroga di un anno dei direttivi 2020 elezioni in videoconferenza o slittamento della conviviale si sta organizzando però con la voglia di non arrendersi la nostra per esempio quella dei devoti ha deciso un rinvio non quindi non un annullamento al 21 giugno che il giorno delle quinozio d'estate anche come un segnale di speranza per cercare in quell'occasione di poter essere operativi per una cena che non è nel clima di Sant'Agnese diciamocela tutta ma che comunque non piega la testa questa pandemia questa emergenza ancora un'ultima grazie grazie grazie